Organizzato dalle parrocchie San Domenico e San Francesco d'Assisi di Acquaviva delle Fonti, il Summer Camp sarà attivo dal 10 giugno al 31 luglio con laboratori creativi e giochi all'aperto. Ce ne parla nel dettaglio Antonella Pietroforte, responsabile animatori della parrocchia San Domenico. Ormai è tutto pronto per l'inizio del campo estivo 2024 che si svolgerà presso l'oratorio di San Domenico. È un campo organizzato a misura di ragazzi dalle due comunità San Domenico e San Francesco d'Assisi e ovviamente è aperto a tutti i bambini della scuola primaria. Il campo avrà la durata di ben sette settimane. Partiamo lunedì 10 giugno e concluderemo il 31 luglio. Gli orari saranno 8.30.13 da lunedì al venerdì. Le attività proposte sono tante, giochi, balli, attività laboratoriali, giochi d'acqua. Ci saranno anche dei tornei di ping pong, calcio balilla, basket e tante altre attività. Sento di dover ringraziare di cuore Don Peppino, parroco delle due comunità, per aver concesso questo spazio ai ragazzi e ai bambini. Sappiamo benissimo che il campo estivo è l'attività più attesa dai bambini. È un'esperienza unica e ripetibile. È difficile sintetizzare le ragioni per partecipare ad un campo, ma fondamentalmente innanzitutto il divertimento è assicurato. Non c'è bambino che una volta tornato a casa non inizia a fare il conto alla rovescia per il giorno successivo. Sappiamo benissimo che stare insieme è bello. Quando a stare insieme sono una cinquantina o più di ragazzi, quasi coetani, è 50 volte più bello. E' bello anche sentire i ragazzi, quando noi chiediamo come è stato il campo, è bello sentire loro dire bello, ci siamo divertiti. Tuttavia al campo non mancheranno momenti di preghiera iniziali. Sono importantissimi perché risultano essere un vero incontro con Gesù. Tutto ciò sembra non pesare minimamente ai ragazzi. Anzi, la magia del campo sta proprio in questo. I ragazzi riscoprono la bellezza della preghiera e dell'incontro con Gesù. Il campo fa crescere i ragazzi non solo nella fede, ma anche umanamente. Incontri e scontri sono all'ordine del giorno e questo suscita emozioni sicuramente forti e spesso nuove, che i ragazzi insieme ai loro animatori, educatori, imparano a riconoscere e a gestire meglio. I ragazzi prendono consapevolezza dei loro pregi, dei loro difetti, dei loro limiti, delle loro fragilità. Ed è bello vedere, parlo da educatrice, è bello vedere nascere nuove amicizie. I gruppi parrocchiali nescono più forti ed uniti. E non mi nascondo che si respira nell'aria proprio la consapevolezza di far parte proprio di un'unica grande famiglia. Io vorrei concludere dicendo che è un'occasione unica anche per gli educatori. Possiamo passare del tempo con i ragazzi, vivere con loro parte della giornata, imparare sicuramente a conoscerli meglio. È un tempo speciale, è un tempo che rende speciale una relazione e questo vale nel rapporto anche educatore e ragazzo. Fidatevi, come diceva Gesù, che se ne intendeva, venite e vedrete. Sarà un'esperienza indimenticabile. E quindi un appello a tutti i genitori, fidatevi anche voi, date ai vostri figli la possibilità di divertirsi e di crescere e date a noi educatori, a noi animatori, la possibilità di essere al fianco dei vostri figli. Che dire, non c'è bisogno sicuramente di aggiungere altro, se non che vi aspettiamo da lunedì 10 giugno. Grazie a tutti.